Arsenico nelle acque del Petraro e del Corvino e scoppia la psicosi. Le rivelazioni della stampa nei giorni scorsi, basate sull'attività di indagine della Procura della Repubblica di Paola, hanno ingenerato preoccupazione tra popolazione e turisti per il presunto inquinamento dei principali corsi d'acqua di Buonvicino e Diamante. Una lettura distorta dei fatti, secondo il sindaco del comune di Buonvicino Giuseppe Greco, su un'attività di controllo nata con ogni probabilità nell'ambito dei controlli sulla depurazione del tirreno che la Procura paolana conduce da oltre un anno. A Buonvicino è arrivato, credo, l'ufficio marittimo, se non erro, a fare delle verifiche sulle qualità dello scarico. Giusto, sono controlli istituzionali che devono essere sempre fatti. Hanno fatto un controllo dei sedimenti in prossimità proprio dello scarico dell'impianto di depurazione del Buonvicino Centro. Avendo trovato quindi presenza di arsenico in questi sedimenti, giustamente, e devo dire anche con una certa logica, hanno iniziato a risalire il torrente e in effetti si è visto un aumento della concentrazione di arsenico, ma sempre nei sedimenti, nelle acque di superficie. Non è mai stato trovata traccia di arsenico, nel modo più assoluto. Risale probabilmente a 30-40 anni fa. All'epoca insisteva lì una fabbrichetta di fuochi d'artificio, ma che si lavorava in modo artigianale tali prodotti. Oggi assolutamente non è più così, neanche lì, perché adesso si fanno già prodotti preconfezionati che vengono, come dire, assemblati e poi si fendono così, insomma. Quindi non c'è quella lavorazione che c'è stata fino a 30-40 anni fa. Infine Greco stigmatizza il comportamento dei media che hanno diffuso la notizia distorta preannunciando anche la volontà di passare alle vie legali nei confronti degli autori degli articoli in questione per procurato allarme. Una vicenda che sicuramente non fa bene al territorio, almeno così come è stata data attraverso la stampa, attraverso i quotidiani del nostro territorio. Sono in possesso delle analisi che ha fatto l'ARPACAL per conto della Procura della Repubblica di Paola. E poiché esclude in modo categorico la presenza di arsenico nell'acqua, sia a Monte della zona di Diamante e sia a Valle alla foce del torrente Corvino per tranquillizzare la gente, per tranquillizzare i turisti, ho ritenuto opportuno fare questa dichiarazione. Aggiungo che analisi specifiche fatte nei sedimenti del fiume Corvino alla foce, quindi in prossimità di Diamante, escludono anche nei sedimenti la presenza di arsenico. Quindi io prego ancora una volta, invito caldamente coloro i quali danno questa informazione a dare le giuste e corrette informazioni.